Buonasera, buonasera. Buonasera. C'è qui Marco Mori, presidente del CIG Marci Gay di Milano. Che ci devi dire Marco? Sono qua per presentare questo premio contro la lesbofobia, promosso e posto avanti da Arci Lesbi Cazzami. Claudio Martini, ideatrice di questo concorso video su sport contro la lesbofobia e poi c'è anche la presidentessa del CIG Marci Gay di Milano. Allora, Claudia, puoi dirci qualcosa come ti è venuta questa idea? Ciao a tutte, noi stasera premiamo un concorso fatto su base nazionale che aveva come titolo 60 secondi contro la lesbofobia. Come ci è venuta questa idea? Ci è venuta in mente, è venuta in mente un po' a tutte le lesbiche del mondo, che quando si parla di omofobia molto raramente si prendono in considerazione le lesbiche. Quasi come se noi non esistessimo o non subissimo anche noi delle discriminazioni. Non avevamo grandi possibilità, insomma, e quindi abbiamo pensato di premiare qualcosa di molto breve ma di molto intenso, cioè uno spot. Quelli che vedrete stasera sono i tre spot che hanno vinto questo concorso, ci sono in sala anche le ragazze che le hanno realizzati. E niente, noi speriamo che questa cosa vada avanti. Noi di queste siamo certe, si tratta solo della prima edizione, l'anno prossimo ce ne sarà un'altra, poi un'altra ancora in infinito, fino al 21 dicembre 2012, quando finisce il mondo. E quando finalmente si renderanno conto che anche le lesbiche esistono e che soprattutto sono persone presuntuose, donne che addirittura aspirano ad avere esistenze normali e felici. Passo la parola. Passo la parola alla Presidente del Ciclo, Stefania Cister. Ciao a tutti, ciao a tutti. A questo punto, se siete d'accordo, passerei proprio alla pregazione, anche perché mi sembra che il tempo sia poco. Bravi! Partiamo con la terza. Allora, Floriano, scusate, Floriano Lapolla di Bologna e Giorgia Bailo. Bravi! Poi, le secondi, anzi, le seconde, la seconda vincitrice è Francesca Lolli di Pisa, che non è a lei, non è a disposizione di sale per il premio Lidia Cirovini. Poi un attimo in sospanso, siamo al momento della vincitrice, anzi delle vincitrici. Abbiamo messo anche un premio in denaro per questo concorso di 500 euro, quindi non so dove andrà in vacanza, ma con questo premio sicuramente farà qualcosa. Allora, la vincitrice è Sasha Federica Mittino e Ionia Mazzi. Quindi ringrazio Claudio Martini della segreteria di Arcelia Di Cazzani, Stefania Cista, Marco More del CIG, partecipate ai vincitori e vi aspettiamo l'anno prossimo con la seconda edizione di questo premio, perché tanto la resbofobia c'è anche l'anno prossimo, quindi c'è mercato. Ma magari non si sposta, ma se viene sconfitta prima non si stava. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Siamo contenta. Ah, terrorista è contenta.